Dal sogno dell'imperatore Claudio alla realtà del Fucino. Sabato, primo febbraio, ore 10, Palazzo Torlonia d'Avezzano. Un video prodotto dal servizio stampa in collaborazione con Mibart Abruzzo racconta una delle imprese più affascinanti della storia che sia mai stata tentata dall'uomo. Il terzo lago d'Italia, il lago Fucino, viene prosciugato. L'importanza della conoscenza, l'opera che concretizzò il sogno dell'imperatore prima e di Torlonia poi, l'agricoltura oggi come motore economico della Marsica. Convegno organizzato dalla Vicepresidenza della Regione Abruzzo. Dal sogno alla realtà. Con la partecipazione straordinaria di Osvaldo Bevilacqua.